Qualche perplessità per il meteo, ma sarà un ferragosto, un lungo ferragosto da sold out nel Pescarese? Si ripete un ferragosto con un weekend che parte da domani e si chiude il 17 mattina. Le pronotazioni per la giornata di ferragosto sono arrivate, abbiamo i locali pieni, io essendo responsabile anche di Fipe Conf Commercio ho chiesto ai ristoranti e anche alle attività che sono al ridosso della costa abruzzese, costa pescarese, ci hanno detto che è tutto esaurito per il 15 agosto. Il tempo è un po' incerto, ma come sempre succede l'estate, un po' d'acqua. Non rovinerà la festa? Sicuramente non rovinerà la festa, ci sarà una bella giornata, un pranzo, non dico nunziale, ma nello spirito dell'allegria, con volti mascherati tipo il carnevale, ci sta musica su tutti i lidi, ci sta una serie di giornata gioiosa, festosa, tenuto conto che in questo momento così particolare nel nostro paese, siamo in un momento in cui dovremmo affrontare l'autunno, ci vogliamo giocare la giornata del 15 agosto all'insegna dell'allegria e grazie a tutto questo alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è una grande organizzazione, che ha messo in piedi una serie di iniziative e da essa abbiamo anche attinto a qualche suggerimento. In spiaggia e al mare sarà anche un lungo weekend più sicuro. Si raddoppia l'esperienza dell'ambulanza del mare? Sì, a questo voglio aggiungere l'esperienza. Abbiamo inserito la doppia ambulanza per sopportare il momento di emergenza, perché riteniamo che in quei due o tre giorni, da sabato al 17, ci sarà un incremento di turisti, di bagnanti che vengono da fuori comune e quindi abbiamo pensato di intensificare il servizio. Il servizio è pagato dal sindacato italiano balneare aderenti alla Confcommercio e alla Fipe e quindi è un gesto nobile che noi abbiamo fatto dall'inizio di stagione e pensiamo di ripeterlo anche per gli anni successivi. Prima la partnership con i carabinieri e ora con i vigili del fuoco. Sì, prima abbiamo dato la prima parte con i carabinieri, oggi i vigili del fuoco, li ringraziamo i vigili del fuoco, anche perché i vigili del fuoco sono quelli insieme a noi che saranno lì ad intervenire se c'è un'emergenza, in acqua o fuori.